gentile ospite benvenuto alla bulia hotel di rodi garganico ci troviamo sul litorale nord del gargano a sole 20 miglia nautiche dall'arcipelago delle isole dreniti in hotel potrai contare per ogni informazione su un servizio reception cordiale e preparato a disposizione per tutto il giorno anche per piccole curiosità o per suggerimenti su come conoscere al meglio la zona per il tuo palato invece lo chef e il metro insieme alla brigata di cucina e allo staff di sala sapranno farti apprezzare sia i sapori locali con una cena tipica durante il tuo soggiorno che piatti legati alla classica tradizione della cucina italiana il servizio di pulizia supportato da un costante ed efficiente servizi di manutenzione nelle camere sarà quotidiano con il cambio della biancheria da letto a metà soggiorno in spiaggia in piscina troverai i nostri banini ad accoglierti e a prendersi cura di te in spiaggia avrai a disposizione durante tutto il soggiorno una postazione con ombrellone per i momenti di relax i nostri bartender sapranno preparare per te bevande a base di frutta fresca frullati ed estratti e prelibati drink da consumare a bordo piscina in spiaggia o alfrida la nuova location in stile chill out ed ispirata alla famosa artista messicana per concludere in bellezza il team animazione saprà regalarti ricordi indimenticabili con attività sia per adulti che per gli ospiti più piccoli ti occuperanno con piacere la tua giornata accompagnandoti sino a sera con lo spettacolo in teatro ti aspettiamo per vivere insieme un'indimenticabile vacanza Apulia Hotel, accoglienza e passione nel sud